Ciao a tutti, oggi vi parlo dei miei nuovi occhiali firmo che ho ricevuto gratuitamente dall'azienda che mi ha chiesto una collaborazione con loro e io ho accettato. Ho semplicemente scelto la montatura che mi piaceva, ho riempito il modulo per la graduazione delle lenti che potete anche saltare nel caso indossiate gli occhiali solo per una questione estetica, non perché ne avete realmente bisogno e dopo meno di una settimana mi sono arrivati gli occhiali corredati di custode. Allora la prima custodia è questa, è rigida, ha la scritta firmo davanti e al suo interno ho trovato questo pannetto per pulire le lenti che ragazzi è fantastico, cioè io vi consiglio di prendere gli occhiali anche solo per avere questo pannetto perché è veramente incredibile, cioè io ho sempre avuto difficoltà a pulire bene le lenti a meno che non le lavassi con acqua e sapone. Con questo tutti questi problemi sono assolutamente arginati, ne sono entusiasta. E poi una custodia più morbida, anche questa con la scritta del brand, e in più un piccolo cacciavite che può servirvi nel caso le vite si allentino o comunque per fissare bene le stecche. Allora, gli occhiali, non so se ve l'ho già detto, arrivano dalla Cina. Firmo è un brand di occhiali online e è sicuramente un'azienda famosissima, grandissima. Sicuramente io trovo che siano occhiali, per la mia esperienza, di ottima qualità. La mia montatura è in plastica, è molto leggera e sottile, ma allo stesso tempo mi dà proprio l'idea di resistenza. E diciamo che non dovete avere paura di ordinare occhiali su internet. Questo è un po' il dubbio che sento. Non dovete avere paura perché sul sito ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno. Per ogni montatura voi avete materiale, peso, tutte le misure. Cioè voi avete per esempio la larghezza, la lunghezza delle stecche, l'altezza delle lenti, la larghezza delle lenti, la larghezza del ponte qua del naso. Insomma, non potete davvero sbagliare. Io stessa ho sempre problemi con gli occhiali perché ho un viso molto piccolo. Per cui tutti gli occhiali risultano troppo grandi per la mia faccia. E puntualmente ogni movimento che faccio mi ritrovo in cima, sulla punta del naso. E specialmente quando uno lavora è veramente, veramente noioso, fastidioso. Per cui, ecco, con questi occhiali non mi capita. Sono la misura adatta a me. Infatti erano i più piccoli della lista di occhiali tra cui potevo scegliere. E quindi sono entusiasta. Ho accantonato assolutamente gli occhiali che avevo prima perché non riesco a sopportarli dopo aver provato questi. E allora, sul blog troverete tutte le informazioni dettagliate e soprattutto un tutorial su come ordinare il suo firmo. Prima di tutto perché il sito è in inglese. Secondariamente perché se dovete riempire il modulo per le lenti, quindi per la vostra gradazione, personalmente io ho trovato inizialmente un po' di difficoltà perché non sapevo leggere le prescrizioni del medico e soprattutto diciamo che le parole che si usano nella lingua inglese, che poi non so quanto siano internazionali, non corrispondono a quelle che usiamo noi. Per cui avete un tutorial specifico pagina per pagina su come procedere con il vostro ordine firmo. Vi ricordo che firmo vende anche occhiali da sole. Io sono veramente entusiasta di questi occhiali e li porto ogni giorno. Io spero che questo video vi sia stato utile e che se avete dei dubbi, delle intubanze riguardo ordinari degli occhiali online, davvero non c'è motivo di averne. perché è sicuramente un sito sicuro, avete la possibilità di scegliere oltre alla vostra montatura tutti gli accessori, per esempio se volete le lenti anti riflesso, anti graffio, col prisma, insomma tutto quello che volete loro ve lo fanno. Io spero che questo video vi sia stato utile, io vi lascio al prossimo video, vi auguro un inizio dell'anno spumeggiante, vi mando un bacione, ciao! Hello everybody, today I'm going to talk about my new firmo glasses, which I've received totally for free, firmo. It's an American brand of eyewear, which is quite famous. It's a massive brand of online eyewear. So, if you don't know about it, I will leave the link below in the infobox so you can check and see if there's some frame you really like. I've received this pair of glasses for free because firmo asked me for a collaboration and I said yes, obviously. I chose my frame, then I ordered them and I received them after less than a week. They arrived from China. So don't be afraid of ordering glasses online because you don't need to be afraid at all. It's very safe. When you've chosen your frame, you click on the frame and you've got like a spec, a technical spec of the glasses and you can get to know the specific measurements of the glasses. So you exactly know the width, for example, the length height and you can maybe compare the measurements to the ones of your current glasses. So you cannot really fail. For example, think of me, I've got a very tiny face and every time I have to try or buy my new glasses, I've got some trouble because all kinds of frames are too big, too wide for my face. And every movement I make, just this happens. And my glasses always fall down my nose. I've never found any other frame who really fit me. And that is, I'm really, I'm really glad about thermal glasses because really they are my perfect size and well, I'm so, I'm so happy about them. I think they're really cute. The frame is very modern but at the same time it has such a retro taste. So, I really like them with red lipstick, so I will show you on the blog. Let's talk about what thermal sends you when you order glasses from them. You receive, obviously, the glasses. Remember, you can fill in a form where you say, where you specify your sight problems so that they can match the perfect lens for you. And you also receive a stiff case like that, you know, it's, there's a thermal brand written here and you also find cleaning clothes, which is brilliant. I love it, it's perfect, it can clean everything. Usually, I have, I find it hard to clean the lenses but that's not the case of this clothes, it's brilliant, really. Also, a soft case, you see like that, and also a little screwdriver. Maybe, if you've got problems with sticks, you know, and you can adjust them. So, this was my order on thermal. If you want more information, I'll leave the link to my post on the blog below in the info box, so that you can check how to make an order on thermal. I will show you exactly how to make it and I will also help in filling in the form of your lenses, so that you cannot really, you cannot really fail. So, that's all you need to know about thermal. I hope you enjoyed this video and that that was helpful. Maybe if you were not very sure about ordering on thermal or not. Well, I hope you will. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the channel. Hope you have a nice day. Bye bye! Bye bye!